Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Orietta Berti è rimasta molto infastidita dal comportamento di Iva Zanicchi, alla quale riserva parole al veleno La Berti è su tutte le furie, l'atteggiamento della Zanicchi non è adeguato a una donna della sua età. Orietta Berti sfodera l'ascia di guerra con quelle parole al veleno contro la collega, Iva Zanicchi Il suo comportamento non è stato gradito dall'usignolo di Cavriago, la quale attacca pesantemente l'aquila di Ligonchio, non stiamo vaneggiando, per chi non lo sapesse sono i soprannomi delle due cantanti, sostenendo che il suo comportamento non si addice per niente ad una donna matura come lei 80 anni la Berti e 83 la Zanicchi, eppure gli animi di queste due attempate ma cariche nonnine non si placa Sono due grandi della musica italiana e non ci pensano proprio ad andare in pensione, anzi continuano a frequentare prepotentemente il mondo dello spettacolo, facendo ancora parlare di loro Non sappiamo quale patto abbiano fatto, ma l'immortalità gli dona sicuramente Il grande rammarico della Berti.Rietta Berti in una recente intervista, ha rilasciato diverse dichiarazioni, in vesta dei suoi 80 anni, compiuti il primo giugno Per lei non ci sarà nessuna festa grande, in quanto ha dichiarato la Berti, festeggerò lavorando, come sempre, due anni fa sul set di Mille Fedez e Achille mi hanno fatto trovare una bella torta, quest'anno farò un brindisi veloce La vita scorre e io continuerò a rimboccarmi le maniche facendo cose nuove, mi sento piena di energia La nota cantante di finché la barca va, ha parlato della sua bella famiglia, composta da suo marito Svaldo Paterlini e dai suoi due figli, Otis e Omar Il suo grande rammarico però riguarda proprio uno dei suoi figli, siamo una famiglia felice con l'unico cruccio che il mio secondo genito, Otis, credente, con una compagna credente anche lei e due figli non si è ancora sposato Speriamo che mi ascolti e lo faccia presto. Orietta Berti vs Iva Zanicki Orietta Berti è sul piede di guerra e sfodera l'ascia contro l'amica Iva Zanicki, per lei solo parole al veleno Nonostante le due siano amiche da anni, il comportamento tenuto dalla Zanicki a ballando con le stelle, alla Berti proprio non è piaciuto Per questo ha dichiarato, tante volte si eccede per il gusto del gioco, ma in linea di massima penso che una parolaccia, accettabile sulla bocca di una ventenne, non si addica a una donna matura All'Aberti non sono andate giù soprattutto le barzellette spinte che la Zanicki ha raccontato allo show di Millie Carlucci Chissà cosa risponderà Zanicki a questa steccata nei suoi confronti? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao